Ciao ragazzi, oggi siamo qui per parlare di un argomento che creerà molta discussione qua sotto nei commenti, me lo sento tantissimo, ma in ogni caso voglio parlarne perché ultimamente, ancora di più del solito, continuo a sentir parlare di certe cose che sinceramente mi infastidiscono un po', neanche solo un po', ma ok. Parliamo di fan appassionatissimi di una singola opera, quasi ossessionati da essa, tanto da parlarne in maniera iper approfondita e da innervosirsi particolarmente nel caso in cui qualcuno non dovesse concordare con determinate opinioni. Oggi sono quindi qui per discutere delle community di singoli anime, quindi di quei gruppi di persone che parlano di un determinato anime per moltissimo tempo su gruppi o qualunque altra cosa essa sia. Ed alcune di queste, diciamo essenzialmente la maggior parte, ma alcune decisamente peggio di altre, sinceramente mi fanno veramente irritare per alcuni discorsi. Oggi parliamo quindi di cosa odio di queste community, senza andare poi troppo nello specifico se non in alcuni casi in cui purtroppo è necessario farlo, perché effettivamente potrei scatenare chissà cosa qua sotto nei commenti. Ma vado alle ciance, iscritti al canale se ancora avete fatto, cliccate sulla campanellina e detto ciò possiamo iniziare a parlarne. Dovete sapere che gli anime fag, così vengono chiamati spesso, come i Fate Fag, appassionati di Fate, Evangelion Fag, appassionati di Evangelion, i Jojo Fag, appassionati di Jojo, e così via all'infinito anche con anime come Mairo Accademia o qualunque altro esso sia. Sono persone che spesso ritengono che il loro anime preferito sia quasi una sorta di credenza, tra tantissime virgolette io direi quasi religione. E sì, ovviamente so che alcuni ci scherzano su, ma di altri ho potuto notare che effettivamente non ne sono poi così tanto consapevoli. Praticamente quell'anime diventa quasi il loro stile di vita, lo riadattano alla loro quotidianità in maniera un pochino troppo invasiva. Secondo me bisognerebbe ben distinguere le due sfere sensoriali che sono ovviamente quello della realtà e quello dei cartoni animati. Ripeto, ci sta ogni tanto la battutina con i propri amici su qualche anime, magari le cosiddette Jojo Reference, però c'è un limite che purtroppo non viene sempre rispettato. Spesso sembra quasi che la persona che non ne faccia parte di questi gruppi voglia essere trascinata all'interno di essi nonostante non ci sia l'interesse. E sta cosa mi puzza un po'. Cioè, almeno a me infastidisce non poco. Poi non so voi, ma io quando mi ritrovo gente che mi ripete costantemente di vedere un anime per capirne la sua magnificenza, a me passa la voglia di vederlo. Cioè, fa l'effetto contrario a quello sperato dal fan. Per me quindi questo è sicuramente l'aspetto più irritante dei fan ossessionati da una singola opera, ma in realtà ce ne sono tanti altri che contribuiscono a non rendermi poi così tanto felice. Come ad esempio la presunzione di aver sempre ragione su qualsiasi cosa sia legata a quel determinato anime. Come se poi tutti gli altri ne fossero inconsapevoli a prescindere. Perché loro non considerano che ci sono tante altre persone che magari quelle opere, che sia un Evangelion, che sia un Myro Accademia, che sia un Fate soprattutto, in questo caso è il franchise che più si lega a questa problematica. Ecco che queste opere le abbiano viste senza diventarne ossessionati in tal senso. Se il discorso di prima posso collegarlo soprattutto ai fan di Jojo, questo qui posso ricollegarlo soprattutto a quelli di Fate. Come ben sapete Fate è una serie super complessa nell'ordine di visione, sono uscite miliardi di serie tra spin-off, prequel, root e insomma ci sono tante persone che ancora non hanno ben chiara questa distensione. In tal caso vi lascio qua sopra nelle schede un mio video molto vecchio che però è ancora valido per capire come vedere le serie di Fate. Però su quest'anime, proprio a proposito dell'ordine, c'è una grandissima confusione perché ci sono alcune persone che conoscono benissimo questa serie e che ritengono che per essere goduta al 100% vada vista in un certo ordine strapreciso, un po' inusuale, con addirittura l'aggiunta di alcune visual novel lentissime e lunghissime per poter comprendere anche l'anime. Ma il problema è, ok, per capirlo al 100% devo fare tutte queste cose, ma se qualcuno non volesse farlo, come è sempre successo, ci sarà mai un'alternativa? Gli anime possono comunque essere visti senza aver letto e giocato a queste novel? Magari un ordine fatto apposta per chi non vuole conoscere così tanto al 100% e minuziosamente ogni singolo dettaglio di quest'opera? La risposta ovviamente è sì, però questi appassionati non lo accettano. Le persone non devono poi essere obbligate a non vedere più niente soltanto perché non vogliono fare questa cosa tanto precisa, anche perché così poi passa la voglia di vederlo e si perdono in quel capolavoro che è Fate. Non vado più nei dettagli perché il discorso Fate è troppo complesso, però avete capito il senso. Un ultimo aspetto di cui voglio parlare è quello di alcune persone che si sentono di criticare a spada tratta quelle persone che non conoscono e non hanno letto il manga di un'opera e che stanno vedendo solamente l'anime. Esempio, vedo Mairo Accademia, non voglio sapere niente, mi sta piacendo, aspetto il prossimo episodio e poi arriva lui. Colui che ha letto tutto il manga e che deve o spoilerarti o prenderti in giro perché non sai delle cose, o dirti che quel personaggio fa schifo e non può piacerti perché l'altro è meglio a prescindere. Non voglio dilungarmi, ma il discorso questo è, credo l'abbiate capito anche solo con questo esempio. Dettoci ragazzi, voglio fermarmi qua, ce ne sono anche tante altre di cose che mi infassiliscono, ma se andassi avanti non immagino cosa succederebbe qua sotto nei commenti. Già, mi aspetto il putiferio, però questi sono dettagli. Spero quindi che questo video ad alcuni di voi sia piaciuto, fate sapere un po' voi cosa ne pensate di tutto questo argomento. Lasciate un like dal caso, iscrivetevi al canale, seguiti su Instagram e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!